Allora, io faccio un intro, un pezzo molto complesso, un pezzo mentale che ho scritto tra poche settimane e che nessuno conosce in un pezzo dove ho scritto queste cose e io mi sento un modo complesso un modo sotto pressione e mi rivolto contro queste cose e mi rivolto contro queste cose e io mi rivolto contro queste cose mi rivolto contro questa gente Grazie a tutti.